Il dragaggio del porto di Barletta non è più una chimiera. Entro il mese di luglio l'autorità portuale esaminerà il progetto definitivo e subito dopo l'estate i lavori potranno finalmente partire. Si chiude così con l'autorizzazione ambientale rilasciata nei giorni scorsi dalla Regione Puglia, un iter burocratico durato ben otto anni. Finalmente con l'autorizzazione ambientale che la Regione Puglia ha rilasciato si è concluso tutto l'iter autorizzativo del dragaggio del porto di Barletta. Diciamo finalmente perché è un iter che è durato circa otto anni. Quando si parla di burocrazia l'esempio è il dragaggio del porto di Barletta. Però finalmente siamo giunti alla conclusione di quest'iter. Adesso spetta all'autorità portuale la verifica del progetto definitivo, la trasformazione in esecutivo e bandire la gara per i lavori. L'opera di dragaggio finanziata dalla Regione con 6 milioni di euro renderà il porto di Barletta uno snodo strategico per i traffici commerciali e turistici della Puglia. Oggi questo porto è penalizzato proprio per i bassi fondali perché purtroppo le correnti portano qui tutti i detriti del fiume Ofanto. Per cui il lavoro di dragaggio si rende necessario per ripristinare almeno ad 8 metri dagli 8 ai 10 metri la profondità per permettere l'ingresso di quelle navi che oggi purtroppo vanno ad approdare nei porti di Bari o di Manfredonia, soprattutto intendo le navi che trasportano merci. E sappiamo benissimo che il porto di Barletta è uno snodo cruciale del traffico marittimo per quanto riguarda le merci e le aziende che lo utilizzano. Per cui ci sarà un'enorme crescita dei volumi di merci che entrano e soprattutto dare la possibilità a queste navi di poter attraccare a Barletta e non più nei porti di Mitrofi e quindi dare la possibilità anche di implementare le attività lavorative.